Hai già scelto il tuo nuovo Pokémon? Visto nuovi oggetti misteriosi? Conosci già i tuoi nuovi compagni di avventure? E anche i tuoi nuovi avversari? Attaccali entrambi! Quello che ancora non sai è che il nuovo mondo dei Pokémon nasconde segreti che non puoi nemmeno immaginare! Il mondo è così pieno di posti ancora da scoprire! È giunto il momento di scoprirli! E poi! Orizzonti Pokémon! Nuova serie! Da lunedì al venerdì alle 16.15 in prima TV assoluta su Boeing e sulla Boeing App! Grazie a tutti!